Benvenuti al Dinner Club. Cosa rende indimenticabile un piatto? Siete voi quattro. Carino. Più le due veterano. Mi hai voluto perché sono anche la tua badante. Sono la campionessa in carica. Un tuo antenato, pensa. Questo è un tuo antenato. Mi hanno detto questo il signor Montalbano. Non è possibile. È morto che tanto. Guarda un'aquila del Tirolo. Non pensavo che era così bravo. Perché lui ha fatto... Assolutamente vado via. Cosa sta facendo signora? Eh, si chiudo, ho già detto. Fagli vedere come si fa allora. Oddio, mi sanguinano le tempie. Non ce la faccio io. Guarda i corsi. Una cosa comoda. C'avemo una cosa comoda. Anche meno, eh Carlo. Molto meno, eh. Abbiamo detto che non è una gara. Invece qui siamo una gara. È una gara. È la voce della verità. Non manca che più dolce porti là, non basta. Chi me l'ha fatto fare? Io te l'ho fatto fare. No. 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 No.